Così vicini, così lontani. Potrebbe essere questa la sintesi di un rapporto che se mai fosse sbocciato ha sempre avuto i connotati di una convivenza forzata piuttosto che di un'unione basata su valori e obiettivi comuni. L'ultimo capitolo della FAI dalla Molisana all'interno del Partito Democratico arriva dalla mozione Orlando che nelle primarie per la segreteria del Nazareno ha sostenuto la candidatura del guardasigilli. Gli orlandiani, capeggiati in regione da Massimiliano Scarabeo, hanno subito contestato il direttorio della federazione di Isernia, costituito dalla segreteria del partito. Il vertice è stato definito senza troppi fronzoli, contrario allo statuto del PD e pertanto non riconosciuto. Al tempo stesso gli esponenti della mozione Orlando, denunciando l'estromissione dal direttorio di Isernia, hanno nominato il proprio direttivo composto dallo stesso Scarabeo e da Giuseppe Simeone, Nicola Pettorossi, Laura Conte, Ombretta Pollice, Michele Giglio, Reste Campopiano, Pino Libertucci e Antonio Iacovetti. Ma al di là dei tecnicismi, come primo passo politico il direttivo non ha perso nemmeno un minuto per dissociarsi all'unanimità dalla politica di Micaela Fanelli e di Paolo Frattura. Una politica, hanno ribadito gli orlandiani, disastrosa portata avanti dal governatore nella sanità, nel lavoro, sui giovani e nel sociale. Roba che in quattro anni di opposizione, almeno nella geografia politica del Consiglio, nemmeno quelli del Movimento 5 Stelle. In pratica l'opposizione più dura al governo Frattura e alla linea della segreteria arriva dal fuoco amico, tanto che nel parlamentino regionale, da qualche tempo a questa parte, sono sempre meno i provvedimenti che vengono portati all'esame dell'aula per timori di improvvisi e prevedibili capitomboli. La spada di Damocle di una ricandidatura promessa può a volte fare miracoli, ma proprio tra i banchi del PD si annidano le trappole più pericolose. Troppe promesse e troppi rinvii, dicono ora anche i colonnelli, nella stagione del Partito Democratico che mai fino ad ora era stato così nella burrasca.